50 anni di attività alle spalle e un ritorno al luogo in cui è nata. La Fondazione Giovanni Agnelli attende domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per inaugurare ufficialmente la nuova sede ottenuta dalla trasformazione della villa di Viagiacosa a Torino che fu anche dimora del Senatore Agnelli. Ne parliamo con il Direttore della Fondazione, il nostro ospite Andrea Gavosso. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Allora, nata nel 1966, operativa dall'anno successivo, una delle prime fondazioni, la Fondazione Agnelli torna nel luogo che l'ha ospitata fino al 2011 ma quella che inaugurerà domani Sergio Mattarella è una sede completamente nuova. Come l'avete organizzata e pensata? Ebbè, è una sede assolutamente molto rinnovata sia dal punto di vista architettonico, ci sarà moltissima tecnologia, controllo ovviamente ambientale, caldo e freddo, ma soprattutto vuole essere un luogo aperto alla città, un punto di riferimento per due temi fondamentali di cui si occupa la Fondazione che sono l'educazione, l'istruzione, che è il nostro tema storico e sempre di più anche temi legati all'innovazione. Per esempio, ci sarà un centro, un osservatorio sull'attività innovativa nell'area piemontese, ci saranno laboratori didattici, ci saranno scuole di imprenditorialità, ci saranno anche giovani imprenditori innovatori che lavoreranno nel nostro spazio. Direttore, 50 anni di esperienza e guardando al futuro per il 2018, che progetti ha la Fondazione? La Fondazione continua ovviamente le sue attività legate all'istruzione, come ricordava lei, forse la più nota è eduscopio.it, che è il portale che aiuta le famiglie a scegliere le scuole superiori sulla base degli esiti successivi, quindi all'università e sul mondo del lavoro. Alle nostre attività di ricerca tradizionale aggiungeremo un laboratorio didattico, che sarà nella nuova sede, quindi diciamo... Per docenti e studenti. Per docenti e studenti, esattamente, nel senso che la mattina avremo gli studenti che verranno ad imparare materie tradizionali, studenti di tutte le scuole, quindi elementari, medie e superiori, verranno a imparare, diciamo, materie tradizionali, matematica, geometria, anche storia e geografia, con l'aiuto di robot. Quindi in robot sviluppati insieme, robot educativi sviluppati insieme a Comau. E invece, il pomeriggio, tipicamente, avremo docenti che impareranno la programmazione, il cosiddetto coding, come si dice adesso, i nanomateriali, eccetera, eccetera. Quindi tutte materie profondamente innovative. Quindi siete in fermento con queste nuove attività. Grazie per essere stato con noi, Andrea Gavosto. Grazie.